Ciao, sono Daniele De Grandis, studio il Bachelor in Ingegneria Elettronica al Dipartimento di Tecnologie Innovative. Se dovessi descrivere il mio percorso in tre parole, sceglierei Intrapendente, perché sei docenti che gli studenti che mi sono stati accanto mi hanno aiutato a conoscere nuove cose e a scoprire molte curiosità. È gratificante perché è possibile, grazie alla teoria e alla pratica, raggiungere un obiettivo concreto, quale la realizzazione di un progetto in disponibilità, perché sia da parte degli studenti che da parte dei collaboratori che dai professori c'era una notevole disponibilità. Si aiutavano molto volentieri durante sia i progetti che le lezioni di teoria. Un'attività che vorrei raccontare è il progetto che ho svolto alla fine del mio secondo anno. Attraverso questa scheda ho realizzato un giochino, Space Invaders, in cui ho messo in pratica tutte le conoscenze acquisite sia a livello teorico che a livello pratico. Abbiamo scritto un codice all'interno di questo microcontrollore e poi abbiamo sia fatto l'interfaccia grafica e utilizzato degli encoder per poter utilizzare il gioco. Grazie alla SUPSI sono andato in Belgio, precisamente a Bruxelles. Ho potuto seguire le lezioni sia in lingua inglese che in tedesca. Ho realizzato dei progetti insieme ai miei compagni internazionali. L'esperienza all'estero mi ha permesso di socializzare in un ambiente internazionale e conoscere nuove mentalità e nuove culture. Nel mio futuro spero di continuare il mio percorso di studi con un master sempre presso la SUPSI. Dopo il master vorrei finalmente andare a lavorare per un'azienda che mi offra la possibilità di sviluppare schede e componenti elettronici. Grazie a tutti.